Dopo un anno finalmente ritornano qua sul mio canale YouTube i video speciali delle reaction, ebbene sì! Bella a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video speciale. Dopo praticamente un anno di pausa ho deciso di ritornare a crearvi dei contenuti particolari qui sul mio canale YouTube che appunto sono inerenti a video come per esempio delle reaction dei vostri segreti hot o segreti imbarazzanti, divertenti, cringe. Era una tipologia di video che vi piacevano davvero tantissimo e quindi dopo che mi avete spammato tutti i giorni da tantissimo tempo su Instagram, qui sui commenti su YouTube e su Twitch in chat, ho deciso di fare questo grandissimo ritorno. E oggi faremo un ritorno con un grandissimo video molto particolare perché andremo a fare la reaction ai vostri segreti hot imbarazzanti. Quindi oggi siamo belli caldi, belli pronti per vedere cosa mi avete scritto su Instagram. Infatti ragazzi se anche voi volete partecipare a futuri video speciali qui sul mio canale YouTube non vi resta che appunto seguirmi su Instagram, mi trovate chiaramente come Croatomist anche perché da un giorno all'altro potete pubblicare delle storie su IG dove vi annuncio che andrò a registrare un video speciale e che quindi ho bisogno del vostro aiuto. Quindi mi raccomando se volete supportare questo grandissimo ritorno e questa bellissima serie non vi resta che lasciare tantissimi pollicioni in su, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti quale episodio vorreste vedere prossimamente qui sul mio canale. Ora però non perdiamoci in chiacchiere perché sono curioso di andare a vedere cosa mi avete mandato. Quindi andiamo. Iniziamo con il primo segreto hot di oggi. Infatti questo è un segreto che non ho mai detto a nessuno. Sarai la prima perché mi vergogno tantissimo. Mi piacciono queste cose. Una volta ho usato lo spazzolino elettrico sulla mia gingilla. No no. Non credo di aver capito. Una volta ho usato lo spazzolino elettrico sulla mia gingilla. Come la chiami tu? Perché me l'hanno detto a scuola. Volevo provare per curiosità perché ho solo 13 anni. Ciao ti voglio bene. Voglio steaia per curiosità volevi provare vero? Oh bugiarda. Questa è una bugia. Questa è una bugia perché so che tante ragazze avranno provato almeno una volta nella vita questa esperienza. Io ovviamente no ragazzi alzo le mani. Cioè io mi proprio mi separo da questa conversazione perché non ho mai provato questa cosa. Però so che molte in realtà hanno provato. Una cosa molto particolare non voglio sapere il continuo. Non voglio sapere come è andata a finire perché suppongo che tu appunto sei molto piccola, ti hai 10 anni. Quindi non farò domande e direi quindi di passare al prossimo segreto 8 perché mi sento già con i polsi freddi. Quindi fidatevi è meglio così. Passiamo al prossimo segreto. Finché di Strinzi una volta quando ero a casa di quella tipa che sai tu stavamo guardando un film horror. Vabbè è nel mentre che vabbè. Oh quanti vabbè hai scritto mortacci tua. Facevamo le nostre cose. Non sapevamo che sua mamma fosse tornata. Doveva tornare tipo alle 20 e invece è tornata alle 18. GG si è stato full boxato dalla madre. Complimenti. E zio Pirchi questa qua si era fatta alla doccia anche mentre non eravamo in stanza. E ape la porta in accappatoio la madre e ci vede a me la figlia che nel mente del film horror puntini puntini. Vabbè stavo da fare a Netflix e in Chile non è che ci vuole molto da dire. Cioè classica frase americana. Complimenti. Penso scena più imbarazzante non poteva succedere. PS la mamma era pure carina in accappatoio. Ah la mamma era carina in accappatoio? Beh è il momento del freddo per chiedere mamma mi scusi mi faccio la figlia. Se vuole si può unire e fare anche un triangolo delle bermuda incredibile. Nel caso peggiore ti potresti trovare con un bel palo dell'enel dritto super irretto. O in caso contrario potresti avere un response positivo e quindi magari ti ci va anche bene. Che non lo sapremo mai effettivamente. Comunque alla fine la madre è rimasta bloccata poi ha chiuso la porta e io mi sono rimessa la maglia e le scarpe. Tutto tipo flash e sono andato via. Però che anche durante l'atto tu non sei stato flash perché se no povera ex ragazza. Bene segreto hot mi è piaciuto molto. La parte di quando dice appunto della madre carina in accappatoio brutto maialone brutto sconcio. Che te ti sei fatto eh? Meglio non chiedere meglio non chiedere sorvoliamo questo argomento e passiamo al prossimo segreto hot. Ciao Marty allora di segreti imbarazzanti hot ne ho un po' ma il più bello è questo. Allora due anni fa stavo con un tipo era sera e i miei erano al mare. Allora decidiamo bene di andare a casa mia a fare le nostre cose brutti brutti zozzoni anzi brutta zozzona eh mortacci di chi so io non mi farei dire niente guarda. Arriviamo a casa andiamo in camera mia e vabbè iniziamo a fare le nostre cose. Fatto sta che ad una certa sento qualcuno che entra in casa e da lì parte il panico perché non sapevo chi fosse. Allora mi rivesso alla velocità della luce e dico al tipo vestiti e mettiti sotto al letto che vado a vedere chi è. Sembra una classica scena tipo di uno di quei film tipo sentimentali d'amore con l'amante no lo so una roba molto particolare quindi già mi sta piacendo. Vado di là ed era mio padre. Arriva la sfranga di ferro. E mo è finita. Che era tornato a casa prima a vedere se era tutto ok perché la vicina tra parentesi quella grandissima bellissima donna fantastica a cui voglio tantissimo bene. Mi aveva visto anche la sera prima entrare in casa con un tipo. Fatto sta che non aveva più senso nascondere il bro allora lo chiamo e lui si presenta in mutande con il gingillo dritto. Ma in che senso? E il mio padre lo squadra malissimo ma alla fine si mette a ridere e chiede cosa stavamo facendo. No guardi papà Vincenzo chiaramente stavamo giocando con sua figlia utilizzando il mio gingillo come film interdentale per cercare di pulire l'igiene orale di sua figlia. Perché dopo aver mangiato la pasta con il pesto aveva tantissimi granelli di pesto e aglio in mezzo ai denti. Quindi la stavo aiutando per sistemare questo suo problemino. Da quel giorno quando i miei sono al mare prima di venire a casa mi chiamano per dirmi che stanno tornando. Ah quindi c'è pure i genitori che ti avvisano. Cioè questa è una botta di fortuna incredibile. Questa non è una cosa di tutti i genitori te lo posso assicurare. Ma tu hai fatto sesso che quando il tuo bro è sempre stato con il gingillo in mutande dritto davanti a tuo padre. Cioè io penso che se l'avessi fatto io anni fa con mio padre quando vivevo con lui. Penso che mi avrebbe letteralmente full boxata. Mi avrebbe fatto 200 e mi avrebbe letteralmente disinstallato dalla vita reale. Non so come tu te ne sei uscita pulita da questa situazione. Ti invidio. Penso che sei una delle più fortunate in assoluto ad aver avuto una reazione del genere. Soprattutto da tuo padre. Però GG. Passiamo al prossimo segreto hot. Ciao Marti. Il mio segreto hot è questo. Due mesi e ti fa ho incontrato la mia stima preferita e inoltre a questo mi piace un casino. Quando l'ho vista mi ha abbracciato e baciato. E l'ucce... Nooo. Non sto capendo dove vuoi cercare di arrivare. E l'uccello si alzò tantissimo e penso che lei lo abbia notato. Dopo dieci minuti io e mia mamma siamo ritornati a casa e mi ha chiesto perché avessi il pirulino alzato. E la madonna scusami ma il pirulino alzato quanto ti è durato? Un'ora e mezza? Che cosa sei? Rocco 2 la vendetta? Spero di non essere stata io quella stream perché qualche mese fa ho fatto effettivamente un evento. Quindi io incrocio le dita di non essere stata io. Anzi è impossibile che sia stato io perché effettivamente parlando quando io sono alle fiere e quant'altro che incontro voi fan. Di certo non mi metto a guardare in mezzo ai pantaloni. Quindi vorrei capire chi è questo streamer o questo streamer che ti ha effettivamente guardato. Cioè scrivelo in dare, sono troppo curiosa. Scrivelo subito perché la mia curiosità mi ucciderà. Grazie. Prossimo segreto hot. Verso inizio anno ero a fare chitarra e ho chiesto al mio professore di andare in bagno. Incambinandomi verso il bagno vedo che la porta era chiusa. Cosa strana perché era sempre aperta. Così per curiosità nooo ed è qua che ti sei fregato. Per curiosità di che cosa? Ok la curiosità ma non mi dire che hai guardato o sentito qualcosa perché se no la colpa è solo ed esclusivamente tua. Perciò decisi di sbirciare nella seratura. Eccala e lo sapevo che andrei a fare questa brutta cosa. Mascalzone, porcellone che non sei altro. E vedo quella cosa dell'occhio due professori sposati che stavano spazzando per terra in quanto il pavimento purtroppo era pieno di germi e batteri. Ma cosa sbirci? Mi scusi ma lei è un guardone? Lei è un guardone? Ok la curiosità ma non bisogna sbirciare. Mi scusi. Delfino coloso. Sono traumatizzato tuttora. Eh ho capito però la colpa è tua cioè mi scusi eh. E chi mi inghiaccia a fare io? Se la colpa è la tua che hai voluto per curiosità controllare e ti sei subito appunto non lo so la guerra di spada laser o non so cosa hai visto. Non la voglio nemmeno sapere guarda perché non voglio essere traumatizzata anch'io. Quindi bel segreto ma ora passiamo al prossimo. Mi chiamo Riccardo ho 12 anni e un giorno mi stavo lucidando la lampada di Aladino potremmo dire così ragazzi suppongo. Eh in bagno ed entra mia mamma e mi fa un casino perché mi ha visto seduto mentre che mi facevo delle cose private. E ho passato tre mesi spaventato per il casino che mia mamma mi ha fatto. Beh penso che sia stata una reazione abbastanza normale di tua madre poi se sei comunque anche piccolino 12 anni è normale. È vero che ormai è normale anche iniziare tra un po' all'asilo a fare le cose purtroppo le nuove generazioni ormai sono così. Però nel senso è normale che tua madre abbia avuto una reazione un po' particolare e che si sia diciamo incazzata. Spero insomma che tu non sia rimasto troppo traumatizzato anzi sono sicura che probabilmente dopo quell'evento hai continuato ancora di più a fare le tue cose private. Quindi complimenti soldato. Passiamo al prossimo segreto di oggi. Erano le sei e mezza del mattino e mi sono sviato di colpo a causa di un rumore. Eh lo so quando ci sono delle persone fuori che fanno gli applausi per via diciamo del teatro di un cinema. È una cosa normale svegliarsi effettivamente parlando. Vado in bagno male mentre sento i miei fare cose. È una cosa normale. È normale. Hai i miei genitori, stanno insieme. È ovvio che siano attivi in quell'ambito di Dyson e Folletto insieme. È una cosa normalissima. Cioè è così, funziona così. Anche a me è successo di sentire quando ero più piccolina i miei genitori fare cose. Perché purtroppo per andare in bagno dovevo per forza passare diciamo da di fronte alla camera dei miei genitori. E quindi immancabilmente mi è successo di sentire delle cose. E ogni volta correvo come un caimano, andavo in bagno, facevo la pipì e tornavo subito in camera mia e mi chiudevo. Perché avevo paura che magari loro pensassero che io vi stessi tipo sentendo o guardando qualcosa. Perché ero sempre terrorizzata. Però è una cosa normale. Stacce, anche i genitori fanno bim bum bum bam bam o full box shoe hundred. È una cosa normalissima. Passiamo all'ultimo segreto hot di oggi. Allora, un anno fa circa la mia ormai ex ragazza mi era venuta a trovare per la prima volta nel mio paese per due settimane. Dormivamo in camera mia e facevamo tutto insieme. Eeeh, sporcaccione. Mortacci vostra e beate voi soprattutto. Mi ha proposto di scambiarci dei capi di abbigliamento. E l'ho dato una mia maglietta. Lei invece mi ha detto di controllare una volta andata via in un posto specifico del mio armadio. Quindi non sapevo che cosa mi avesse lasciato per ricordo. Ancora non so come è stato possibile. Ma mia mamma trova questo capo di abbigliamento. Erano delle mutandine. Usate. Ah, hai capito. Quindi doppiamente sporcaccione. Non ho parole. E lo so perché le ho riconosciute. Erano della nostra ultima volta prima di andare via. E sono talmente imbarazzante che ho dovuto dire a mia mamma che erano mie e io non uso questo genere di cose. Che vergogna. Ebbè, nel senso, penso che tua madre lo sappia se erano tu o meno. O meglio, magari sei una persona grande che fa shopping da sole e quindi lei non sa. Oddio, se ti lavi i panni penso che lo sappia. E quindi, cioè, io non voglio sapere che cosa tu hai fatto poi con queste mutandine usate. Se le hai conservate, se le hai lavate. E in realtà non lo voglio neanche sapere. Perché la curiosità delle volte è bella, ma in questi casi è meglio tenersi, cioè diciamo, la curiosità da parte e sorvolare. Perché non voglio sapere. In realtà fammi sapere nei direct che ho andato a finire perché sono molto curiosa. Io personalmente non ho mai fatto una roba del genere e nessuno l'ha mai fatto con me. E vi devo dire la verità. Ma meno male che sia andata in questo modo. Devo dire, ragazzi, che questi segreti di oggi sono stati veramente super super belli. Alcuni molto divertenti, alcuni davvero stra particolari. E devo dire che da un anno a questa parte non è cambiato niente. Siete rimasti sempre i soliti maialoni e maialine. Come sempre, d'altronde. Però mi sono divertito un casino. Davvero bei, bei segreti. Nulla da dire. Ragazzoli, siamo giunti al termine di questo fantastico video speciale che io spero vivamente che vi sia piaciuto. Mi raccomando, se dovesse essere così e se volete vedere altri video speciali simili, non dovete fare altro che spolliciare a più in un posto questo video. Condividelo con i vostri amici e farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e soprattutto che episodio vorreste vedere prossimamente. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sul mio profilo Instagram perché da un giorno all'altro potrei pubblicare delle stories dove appunto vi preannuncio che andrò a registrare un video speciale e che quindi se volete partecipare, proprio come hanno fatto i ragazzi in questo video, non dovete fare altro che scrivermi in direct quello che appunto vi andrò a chiedere. Che possa essere magari la vostra postazione da gaming o altri tipi di magari di segreti vostri, imbarazzanti, divertenti e chi più ne ha, più ne metta. Quindi mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Croatomist. Detto ciò ragazzi, noi adesso ci dobbiamo salutare ma ci ribecchiamo prossimamente con un bellissimo video. Quindi dalla vostra Croatomist è tutto, bella a tutti ragazzi! Grazie!